Ciao ragazze, eccomi qui con un video review per quanto riguarda i prodotti che acquistai tempo fa sul sito di eccoverde.it Ebbene ragazze, per chi non conoscesse questo sito, è un sito vastissimo che presenta vari prodotti delle più svariate marche per quanto riguarda la cura del corpo, dei capelli e la cosmesi in generale, prettamente bio e completamente naturali Tempo fa appunto ragazzi, approfittando anche delle promozioni, effettuò il mio primissimo ordine e così appunto ho effettuato anche il mio primo video per quanto riguardava la recensione di questi prodotti che avevo acquistato e se siete curiosi appunto di vederlo, ve lo lascio qui all'interno del mio canale Per chi invece già avesse curiosato nel video precedente, oggi vi parlerò soprattutto di un kit che allora avevo soltanto acquistato ma non avevo ancora provato sui miei capelli e del quale ragazze sono rimasta veramente veramente soddisfatta tanto Il kit in questione è questo qui della Lavera ed è il kit alla rosa e alla cheratina Questo è lo shampoo ragazzi, all'interno ci sono 200 ml di prodotto come vedete è totalmente bio, così come il bollino di garanzia e all'interno non ci sono né parabeni né siliconi Ragazzi cosa dirvi, il profumo è dolcissimo, è veramente molto dolce si sente la rosa che è molto leggera e ci sono anche delle note leggerissime appunto di borotalco all'interno Ovviamente essendo un prodotto prettamente naturale ragazzi, anche quando lo applicate sui capelli non vi darà quell'effetto schiumosissimo, così come i prodotti che reperite nel supermercato o nelle profumerie Ovviamente è una sostanza molto più gelatinosa quindi tende ad ungere abbastanza i capelli ad essere molto più secco sulla cute però posso assicurarvi che una volta risciacquati i capelli il capello appunto è ben nutrito, si sente che è molto più compatto in abbinato a questo shampoo ragazzi, vi era appunto il balsamo da 150 ml, sempre alla rosa e alla cheratina e anche questo balsamo ragazzi, a differenza dei prodotti comunque commerciali presenta una struttura molto più schiumosa sembra quasi una spuma per capelli insomma e anche quando lo applicate sulle punte tende un pochino a seccarle però posso assicurarvi che una volta applicato dopo il balsamo anche il kit ristrutturante che vi esce appunto nella confezione in promozione sul sito questo qui è da 30 ml ragazzi, posso assicurarvi che i capelli veramente sono urinati vengono molto più spessi anche che dopo la piega i capelli sono molto più sani molto più corposi infatti posso dirvi ragazzi che da quando utilizzo questo prodotto io vedo veramente risultati, dei cambiamenti soprattutto per chi come me ha dei capelli molto fine che tendono quindi a spezzarsi e a sporcarsi molto in fretta infatti come vedete io ho effettuato lo shampoo con questi prodotti circa due giorni fa e posso dirvi che il prodotto è veramente eccezionale ragazzi se potete vedere anche i capelli sono molto più folti, voluminosi e lucenti io sono veramente soddisfatta di questi prodotti e penso che a breve effettuerò un nuovo ordine per provare anche le altre profumazioni e nulla ragazzi, spero che questo video possa esservi utile per i vostri futuri acquisti sul sito vi mando un bacione e fatemi sapere assolutamente nei commenti del video se anche voi utilizzate questi prodotti o se avete utilizzato anche altre marche prettamente bio vi mando un bacione ragazzi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao